il prossimo video di crash royale ora arriviamo arrivati dove avevamo fatto diciamo una partita equilibrata e oggi e adesso cerchiamo di portarla a casa il salvitorio no? mi manca una coppa così arrivo a 10 su 10 vai con la battaglia cerchiamo di portarla a casa il salv super vittoria ovviamente quando vai più su l'arena 11 le trovi veramente forti cioè sono fortissimi e a volte non riusci neanche a vincere ecco quando appare i colori sai già che abbiamo perso però se io riesco a mettere la strega forse no eh forse non è finito adesso cerchiamo di farli a beffa anche l'altro castello insomma il principe nero e anche il principe nero ci mettiamo pure un stregone di ghiaccio perfetto se riesco a mettere anche la strega che facciamo un tipo perfetto è quello che non volevo ti chiedeva vai vai ecco vedi quando ti capita neppure te mi importi no? ok mettiamo un pochettino parcero che è il monomare che abbiamo distrutto no ma perchè cosa stai facendo ti è mancato ok cerchiamo di portarlo subito ok non vuoi morire vai subito attacco grande se riusciamo ad attaccarlo così ok adesso ci mette marcele poi la seconda di ghiaccio dietro per difendere ecco e ti pareva no? la sfiga ciò e basta no ma tanto almeno penso non ci riesco anche io ce l'ho ma non mi piace perchè tanto lo sprechino non riesco mai a vincita una poi non lo sentiamo di migliorare alte 2,50 incasso quanta abbiamo 5 e quando finisce la stagione e 15 giorni ci avrò un bottino d'oro ok se riesco andrò avanti ciò le guardie grande halt riusc roi finché Beh così Secondo me così Magari riesco a bloccare anche l'altro Eh lei Ci proviamo di nuovo È andata male all'inizio Ma non ci possiamo sparaggiare del tutto Perché diciamo che abbiamo fatto Quasi un'ottima partita Ok Cerchiamo di recuperare Tantissimo di giro Adesso cerchiamo di attaccarlo Un pochetti Affanapoli Doviamo amare Far veloci Pesa almeno Dopo gli occhi ci metti ammonte La stessa Per fare un duo Praticamente forte Ecco E si pareva che Dovrebbe essere così forte Ora sega del bugio non è Eccolo qui Eccolo qui Altro Un tipo Cocomeri Eh diciamo però Altro Cocomeri Un pochetto Un pochetto Un pochetto Sfaiolo 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 Eccolo 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 Sfaiolo Sfaiolo Un pochetto Eccolo 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 Pesolo Pesolo Noooo It's R'! Pesolo Eccolo Pesolo OV molto ok per me va bene così abbiamo fatto una persa una vittoria per me va bene così ci vediamo al prossimo video ricordatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto attivare l'accampagnina comunque di cuore quelli che si sono appena iscritti che siamo arrivati a tutti e per noi e ce la facciamo arriviamo a 900 con calma e con determinati bella a tutti ragazzi ci vediamo il prossimo video